Per la prima volta un mio video sta raggiungendo delle 300.000 visualizzazioni, perciò grazie a tutti, soprattutto a quelli che si sono iscritti dopo quel video e a chi ha condiviso, a chi ha messo mi piace, insomma, un piccolo traguardo per questo canale. A quanto pare ho toccato un argomento sensibile perché da allora un sacco di gente mi sta insultando sia su YouTube che su Facebook, perciò volevo condividere un po' di questi commenti con voi. Giulio Petruzzi ci dice Giulio, mi sa che sei un po' confuso perché io lo so che è solo uniserie, però sei tu quello che si incazza e mi manda a fare in culo. Ups, mi dice, suicidati. Mi ha detto suicidati sotto un video di 13. Ok. Anna Sposato dice Ma sei stupido che dici tutte queste cose brutte su lei? Scommetto che sei incazzata solo perché è lo stesso nome della protagonista e quindi sei egocentrica come lei e pensi che stessi parlando di te, vero? Asmerslime dice Sei solo una testa di cazzo, non hai un minimo di coscienza. Ok, d'accordo, penso che possa bastare. Fai schifo. Ok, ok, basta. Per me sei solo un coglione. Basta, vi prego. Ma vaffanculo, cretino. Vai a sperare. Ok. Ciao. Grazie a tutti